4-6 kg di cocaina al mese? Sì, possiamo ritenere, ovviamente non ci sono dati statistici se non ci sono analisi precise, dalle indagini in corso, dalle indagini fatte in passato, con una valutazione molto sommaria, possiamo ritenere per esempio che la cocaina possa oscillare come consumo tra i 4 e i 6 kg al mese. Per dare un'idea del valore commerciale, pur con tutte le variabili del caso, le differenze, al consumatore finale, quindi nella vendita al consumatore finale, 6 kg di cocaina significano circa 600.000 euro al mese. Ovviamente parlo di fatturato, non lasciando perdere i costi. 600.000 euro al mese, parlando solo di cocaina, può interessare chi in questo settore opera da tempo. 4-6 kg di cocaina al mese, a Campobasso e dintorni, 6-7 di eroina che a 25 euro a grammo fanno altri 150.000 euro e altrettanti introiti derivanti dalle droghe leggere, numeri inquietanti indicati dal capo della procura della Repubblica di Campobasso, Nicola D'Angelo, un vero e proprio business che fa gula alla criminalità organizzata. L'uso delle sostanze stupefacenti è una sorta di autostrada per la criminalità organizzata. Adesso si sta concretizzando sempre di più, cioè il quantitativo del consumo di droga a Campobasso e dintorni, come nel Basso Molise, è tale da attirare seriamente una criminalità organizzata che fa affari con la droga. Un camorrista, un soggetto della società foggiana, società in un termine tecnico, che vuole controllare la piazza di spaccio di Campobasso, non ha grossi rivali e questo per lui è molto più semplice, quindi sa che non si deve guardare le spalle. Certo, può essere arrestato dalla polizia, dai carabinieri, dalla magistratura, ma tutto sommato andare in carcere per un soggetto di spessore che già ha esperienza del carcere è un rischio accettabile. Ecco, a Campobasso non rischia che mentre vuole controllare la piazza di spaccio arrivi un altro a farlo fuori. Come uscirne? Rendendo il Molise meno appetibile e dunque abbassando il livello di consumo mensile. Se non lo abbassiamo siamo continuamente a rischio, cioè non sempre le forze dell'ordine riusciranno o riescono a contenere questo rischio. Fintanto che i livelli di consumo sono quelli attuali, all'esterno c'è chi si interessa per intervenire su questo consumo. La droga è un fattore moltiplicatore dei reati, ha spiegato D'Angelo durante l'incontro con la stampa che si è svolto nella sede dell'ordine dei giornalisti a Campobasso. Furti e rapine, in particolare messi a segno da consumatori abituali di sostanze stupefacenti, non intimoriti neanche dalla possibilità di finire dietro le sbarre. 55 misure cautelari dal 2018 ad oggi, aggiunge D'Angelo, a dimostrazione che arrestare gli spacciatori non risolve il problema perché è forte la domanda. Tanto è stato fatto, ha rimarcato il presidente dell'ordine dei giornalisti Pinapetta, ma molto bisogna ancora fare. La task force nel segno del progetto Molise senza sostanze stupefacenti, che coinvolge anche l'ordine degli avvocati, ha in mente altre azioni, tese a sensibilizzare i giovani in età scolastica e le famiglie. Stiamo mettendo in gambo delle iniziative, volte principalmente alla sensibilizzazione, alla problematica, mediante incontri presso gli istituti scolastici. Abbiamo pensato anche di organizzare, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, dei concorsi di idea, concorsi fotografici oppure piuttosto che concorsi letterari. E in ultimo stiamo pensando pure di veicolare questi messaggi di contrasto alla diffusione di stupefacenti attraverso i social media. Non ho mai visto quella persona come un potenziale...